Siamo lieti di riprendere i nostri lavori dopo una lunga sosta dovuta alla sofferenza che ognuna delle famiglie che rappresentiamo qua hanno veramente sofferto. E siamo grati a Dio che ci permette di incontrarci ancora per continuare il nostro lavoro. Noi sappiamo che malgrado la nostra sosta, la mancanza di comunicazione, voi avete continuato il lavoro, avete continuato a testimoniare la misericordia e noi vi siamo grati e chiediamo al Signore di benedirvi e per questo insieme noi vogliamo dire il Padre nostro che è misericordioso per ognuno di voi, per i vostri cari, per tutti gli ammalati e in modo particolare per gli ammalati della famiglia camigliana laica. Padre nostro che sei nei Cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci indurre in tentazione ma liberarci dal male. Amén. Amén.